La povertà, i terremoti, l'emergenza IDS, la criminalità, la pandemia, i corridoi umanitari, la cooperazione con il sud del mondo, l'obiezione di coscienza, 50 anni di solidarietà con la Caritas. La storia non si guarda dalla prospettiva dei vincenti, che la fanno sempre apparire bella, perfetta, ma dalla prospettiva dei poveri, perché è la prospettiva di Gesù. Sono i poveri che mettono il ditto nella piaga delle nostre contraddizioni e inquietano la nostra coscienza in modo salutare, invitandoci al cambiamento. L'abbiamo visto a Roma, dove abbiamo girato questa puntata di Tg1 Dialogo, nella cittadella della Carità sulla casilina vecchia. Incontriamo storie come questa. Noi siamo in nove e praticamente abbiamo veramente bisogno. Siete in nove? Nove con quattro minori e un bambino di tre anni. Quindi è una situazione abbastanza particolare, dove papà è pensionato e lavora solo mia sorella. Se prima della pandemia a turno qui venivano aiutate con la spesa all'emporio della solidarietà, 40 famiglie al giorno, oggi sono 120. In questo emporio non girano soldi, è un supermercato a tutti gli effetti, però c'è una tessera tipo un piccolo bancomat con i punti. E quindi aiuta dal 2008 le famiglie in difficoltà, sia italiane che straniere, con generi alimentari di ogni tipo. Chi sono i nuovi poveri della pandemia? I nuovi poveri sono tutti. Ho visto famiglie, soprattutto in questo periodo, italiane che hanno perso il lavoro e che quindi i primi mesi ce l'hanno fatta. Ma con l'inizio di aprile-maggio sono caduti in grossa difficoltà, per cui venivano famiglie e dicevano che non avevano nulla da mettere a tavola ai figli. E di carità e di ospitalità si parlerà anche lunedì ad Alessandria per il ciclo di incontri le piazze di Francesco. La proposta del vescovo Guido Gallese è quella di prevedere alle mense Caritas turni di volontari che sono seduti a tavola con i poveri per condividere e costruire relazioni. Buongiorno, oggi con padre Enzo siamo a Roma, in via Casilina Vecchia, nella cittadella della Caritas, 50 anni per i poveri e con i poveri. Questo è l'ingresso dell'Emporio della Solidarietà. Una grande presenza la Caritas in H24 che cuce e ricuce le lacerazioni sociali del nostro paese e nella vita delle persone, lo abbiamo visto nella pandemia. Caritas vuol dire un pasto caldo, la spesa alimentare, un letto, la ricerca del lavoro, speranza futuro. Padre Enzo, qual è il rapporto tra la Caritas e la spiritualità francescana? Ma è Francesco D'Assisi, Piero, è la persona di Francesco D'Assisi. Io penso a Francesco che ha chiesto la carità. All'inizio del suo cammino c'è una scena che ci raccontano i biografi straordinaria, che lui va facendola a questo e a un certo punto passa vicino ad una taverna del tempo e lui chiede la carità. Ma anche Francesco che vive la carità, la solidarietà. C'è un episodio straordinario che lo stesso Francesco si trova a vivere nel convento dove a un certo punto va a bussare una donna povera e non avevano niente. Francesco cosa fa? Dice prendiamo l'unico libro per pregare che abbiamo e lo dona per prenderne il ricavato e darlo alla donna. I frati gli dicono ma questa è l'unica cosa che abbiamo per pregare. Il Signore sarà più contento se avremo donato questo libro e per noi questa sarà preghiera. E adesso riascoltiamo il Presidente dei Vescovi Italiani, il Cardinale Bassetti, intervenuto all'incontro in Vaticano per i 50 anni della Caritas. La nostra Caritas, che è qui per celebrare i 50 anni appunto dalla propria nascita. Essa nacque il 2 luglio del 71 con lo scopo di essere testimonianza viva della carità in tutti i suoi molteplici aspetti. In una parola si voleva sostituire l'assistenzialismo con la promozione umana, con una opzione preferenziale per i poveri, come aveva detto il Concilio. Padre Enzo, Papa Francesco ha di nuovo parlato recentemente della riforma della Chiesa, dicendo che la riforma della Chiesa l'hanno fatta. Nella storia uomini e donne che non hanno avuto paura di entrare in crisi e di lasciarsi riformare dal Signore, quelli che mettono la carne sulla croce, ha detto il Papa. Padre Enzo, pensiamo a San Francesco e qui anche a tanti uomini e donne della Caritas. Io, Piero, devo dire una cosa. Le persone che abbiamo intervistato, le persone che incontriamo nei centri Caritas, che fanno del bene, a qualsiasi livello, io vedo che sono volti luminosi. Sono anche volti, Piero, che sorridono, non sono tristi. Anche se a volte si privano del tempo, si privano di tante cose, ma tu li vedi con il sorriso. E poi l'altro aspetto che noto in questi volti, ma soprattutto anche nelle loro parole, è che non c'è spazio per la disperazione. Eppure vivono un dramma, stanno a contatto continuamente con drammi umani, con situazioni drammatiche. Qua abbiamo visto, c'è gente che fino all'altro ieri stava bene, non ha più niente. Abbiamo visto che c'è gente che viveva con quel poco, che risparmiava e che deve venire a fare la spesa qui, Piero. C'è gente che deve chiedere la tessera. Ebbene, pur immersi in questo dramma, sono volti parole di speranza. E adesso ascoltiamo un grande testimone della storia della Caritas, il fondatore della Caritas romana, Don Luigi di Liegro, morto 24 anni fa. Io credo nella risurrezione perché sono un prete, però credo soprattutto in una risurrezione che già è possibile realizzare qui in mezzo a noi. Credo che l'Aidis può essere anche un'occasione per ripensare la sessualità come fatto molto importante, che va goduta, ma va goduta soprattutto come un mezzo di donazione, di comunicazione con l'altro o con l'altra. Direi che allora la sessualità è un valore estremamente importante, ma direi che è determinante per la vita umana. La preoccupazione prioritaria non è tanto quella di produrre dei servizi di carattere assistenziale a favore di questa popolazione che ne ha pur bisogno, quanto piuttosto di promuovere condizioni diverse di vita e promuovere anche l'attenzione, la buona volontà e l'impegno politico e sociale delle istituzioni che hanno questo dovere. Tentiamo di non rivolgersi solo a quelli che dicono di credere, poi non so fino a che punto poi credono sul serio perché se ne fregano del prossimo, ma sentiamo di rivolgersi a tutte le persone di buona volontà per dire che è arrivato il momento che al di là delle ideologie, anche delle scelte religiose, tutti ci dobbiamo sentire solidali perché la pace dipende dalla solidarietà e dipende anche dalla giustizia. Anche le chiese locali si prodigono valorosamente e generosamente. Le nostre caritas osano oltre le forze. Padrenzo, parliamo ancora di Papa Francesco e della riforma della Chiesa. Dopo la riforma del Concilio Vaticano II nacque 50 anni fa la caritas. Oggi il Papa chiede qualcosa di più, che la riforma cominci da noi stessi, avendo il coraggio di accettare la realtà, qualunque sia la conseguenza. In che modo affrontare, Padrenzo, questa realtà della questione sociale secondo quanto ci indica la caritas? Ma intanto tu hai citato il Concilio Vaticano II. Io vorrei riprendere un titoletto di un paragrafo molto intenso che porta un titolo preso da San Paolo, grande evangelizzatore, e cioè Caritas Christi Urget Nos. La carità di Cristo ci spinge. Io vorrei aggiungere un testo che mi è rimasto impresso, del Cardinal Tagle, che è anche presidente della Caritas Internazionale, e dice così, ho imparato dai poveri. Piero, chi sta a contatto con i poveri impara a vivere la vita, impara a vivere la vita. E questo credo lo possono testimoniare anche tanti nostri ascoltatori. Si impara a vivere imparando dai poveri. Poi non solo impariamo dai poveri, partiamo dai poveri per costruire un mondo migliore, un mondo più a misura d'uomo, un mondo più umano. E impariamo anche a vivere da poveri. Vivere da poveri significa che io faccio spazio all'altro, cioè che non sono pieno di me stesso, che la mia vita diventa una piazza dove permetto di far vivere gli altri, permetto di far incontrare gli altri. Questo significa anche per i francescani vivere da poveri. E l'ultima considerazione, Piero, che vorrei fare, è un po' pesante, però la faccio. La morte. Noi dobbiamo capire una cosa, Piero. Se la morte è il punto di arrivo o la morte è il punto di partenza. Per l'incontro con il paradiso, allora io vivrò e mi allenerò per questa corsa, per questo punto di partenza. Cambia tutto, cambia la prospettiva, cambia il mondo, cambia il mondo di vedere, cambia davvero tutto. Come sarà la Caritas, che festeggia mezzo secolo, nei prossimi 50 anni, nel cammino sinodale avviato dalla Chiesa italiana? Lo abbiamo chiesto al presidente di Caritas italiana, Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia. Caritas italiana continuerà nei prossimi anni il cammino di questi 50 anni. Quindi vorrà essere l'organismo pastorale della Chiesa italiana, una testimonianza concreta e fattiva a favore dei poveri, dei bisognosi, ma anche una testimonianza che vuole contribuire a educare la società italiana ai temi della solidarietà e del volontariato. Vorrà anche fare un'azione, potremmo dire, anche di profezia, cioè di attenzione ai poveri, ma anche alle cause della povertà, per crescere insieme in un cammino che sia veramente di solidarietà e di attenzione agli ultimi. Vorrà coinvolgere di più sicuramente anche i giovani, che già sono molto generosi e molto attenti, dare maggior valore anche al ruolo così importante delle donne e un'attenzione particolare a tutte le categorie delle persone che si trovano in difficoltà. Insomma, continuare ad essere una presenza di Vangelo per la Chiesa italiana e per la società italiana. Potete rivedere la puntata su tg1.re.it, su Rayplay e sui social. E a proposito di social, Piero, rimando sulla mia pagina Facebook e non mi resta che salutarvi con il pace e bene nella lingua dei segni. Pace e bene, cari amici. Grazie a tutti, grazie Padre Enzo. Arrivederci dall'Emporio della Solidarietà, della Caritas, qui a Roma. E Gesù vuoi che noi ci mettiamo in gioco. Quante volte, ad esempio, diciamo che vorremmo una Chiesa più fedele al Vangelo, più vicina alla gente, più profetica e missionaria, ma poi, nel concreto, non facciamo nulla. E' triste vedere che tanti parlano, commentano e dibattono, ma pochi testimoniano. I testimoni non si perdono in parole, ma portano frutto. I testimoni non si lamentano delle altre e del mondo, ma cominciano da se stessi. Si ricordano che Dio non va dimostrato, ma mostrato con la propria testimonianza, non annunciato con proclami, ma testimoniato, testimoniato con l'esempio. Questo si chiama mettere la vita in gioco.